Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi faccio vedere il primo ordine che abbiamo fatto dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola Che vi faccio vedere tante inizie e fine video comunque in sovi impressione E trovate sempre nel primo link e in descrizione in tutti i video Che riguardano Wargame, soprattutto la GV e anche i scenari Abbiamo fatto il primo ordine di queste cose che ora vi mostro a breve Ringrazio Corrado, ovviamente il proprietario della Gioco Libreria Semola Per averci mandato tutte quante queste cose qui tempestivamente Perché abbiamo fatto l'ordine tramite sito tra l'altro usando il codice sconto Che non vi dimenticate mai in fase d'acquisto Coridan 7 Lo usate io stesso perché avete uno sconto del 7% su qualsiasi acquisto Quindi anche in acquisti abbastanza grandi come questo che abbiamo fatto Andate a togliere una buona spesa ma soprattutto magari andate proprio completamente a stroncare Annullare le spese postali Quindi grazie per la professionalità, grazie per la tempestività Corrado E vi faccio vedere un pochino cosa abbiamo comprato dopo la sigla Questo qui è il Pallid Witch Flash Il Mechanicus Standard Grey Il Gilliman Flash che è un Contrast ed è del mio premarca quindi voglio rispetto Il Dawnstone L'Administratum Grey L'Amian Medium che è un Technical Questo è un Technical, Typhus Corrosion Nihilac Oxid che è un altro Technical Questo è l'Astorat Red che è un Dry invece Questo ve lo mette praticamente in tutti gli ordini direttamente alla Gioco Libreria Semola Che è un simpatico segnalibro che appunto celebra i 20 anni della Black Library Che è la cosa più bella della GV per me E per me a pari merito dei giochi sono i loro romanzi E un braccialettino sempre della Black Library Che comunque per collezionisti o comunque persone che da una vita stanno dietro a roba della GV è veramente bello E poi l'ultimo Codex della Detta Sororitas delle Sorelle Guerriere Che è veramente qualcosa di spettacolare E poi ragazzi io penso non c'è nemmeno bisogno di presentarvi la GV Perché i lavori e i disegni che ci sono dentro sono veramente cose disumane E questo è l'esercito che ha scelto di fare un Warhammer 40.000 Perché noi siamo fanatici da morire Mia moglie, mia moglie si è fissata da morire con le Adeptas Sororitas Come io sono fissato con gli Ultramarine E il nostro amico e collaboratore Pippo invece con i Tirani di Elkaos Quindi diciamo che bene o male gli eserciti principali della meditazione di Warhammer 40.000 Guardate qua che cavolo di disegni Ci sono, bellissimo il Codex, bellissimo Guardate là le miniature, poi ovvio Queste che vedete sui Codex sono sempre colorate da professionisti della GV Non l'ultimo arrivato Però cioè guardate, tralasciando il colore che è perfetto Guardate le miniature Non bellissime poi le sorelle guerriere che volano col jetpack Sono qualcosa veramente di spettacolare C'è da dire poco ragazzi Quando si parla di modellismo e cose del genere Lo sapete, io ho santificato la Cmon in tutte le maniere possibili Ma la GV è la GV Anche perché ricordatevi Quando altre aziende le facevano dozzinali Lasciate se le stampanti 3D Perché 10 anni fa, magari 15, non c'era nemmeno Però quando le stampavano a livello industriale e dozzinale Loro avevano gli scultori a mano Cioè ha fatto delle cose La GV ha fatto scuola nel modellismo A livello mondiale E ne siamo profondamente innamorati La GV ha fatto scuola nel modellismo Ovviamente questo qui è un acquisto puramente di materiali A parte il libro della Deptas Ororitas Il Codex perché mia moglie lo voleva E tra l'altro li vogliamo collezionare tutti Perché c'è il bando a morire E il braccialettino tra l'altro E questo qui dovrebbe essere la celebrazione dei 20 anni della Black Library In più il braccialetto perché siamo fanatici Io vi dico la verità La maggior parte dei romanzi di Warhammer 40.000 Me li sto leggendo tutti dalla Black Library In ebook, in inglese Anche perché in Italia l'aveva presi prima Lobby and Work E successivamente la Mondadori Con una collana a parte E poi hanno smesso di pubblicarli Cioè sono arrivate al terzo degli Ultramarine L'hanno smesso E a quelle della sporca dozzina Alla tredicesima legione penale Al terzo al quarto E hanno interrotto Quindi voglio sapere come va a finire Li sto leggendo in inglese E più che altro come vi ho detto Abbiamo preso questi colori qui Per colorare scenari Insomma tutte quante le cose che ci sono arrivate Che vedete a breve sul canale Abbiamo delle cose spettacolari Da mostrarvi Senza spoiler Anche cose che non si vedono più In campo dalla GV Da almeno 20 anni Se non di più 15-20 anni Buoni buoni Quindi ringrazio ancora una volta La Gioco Libriera Semola Grazie di cuore Grazie Corrado È sempre un onore e un piacere collaborare con te Grazie Ripeto ancora una volta Tra l'altro che abbiamo fatto l'acquisto Abbiamo comperato Pagando con bonifico E tempo 48 ore scarse La roba era già arrivata Quindi grazie di cuore Link in subimpressione Primo link in descrizione Ricordatevi Quando acquistate Dalla Gioco Libriera Semola Anche comprate un colore Usate il codice sconto Coredan7 Avete diritto a uno sconto del 7% E se non erro Superate i 70 euro di ordine Avete anche le spedizioni gratuite Quindi ragazzi Se dovete acquistare roba della GV Andate direttamente sul sito Della Gioco Libriera Semola E poi magari se qualcosa non lo trappa A parte il sito è fatto benissimo Se qualcosa non lo trovate in lista Mandatele un messaggio privato a Corrado Che è una persona squisita E ditele Guarda Vengo dal canale di Coridan Sarebbe possibile avere questo oggetto E secondo me Non vi dirà mai di no Fatemi sapere cosa ne pensate E tutte queste belle cose Mia moglie Le userà appunto per dipingere Le varie cose che ci sono arrivati Scenari e miniature E ne vedrete veramente delle belle Ciao ragazzi Alla prossima Ciao